Amici sportivi di Levante Sport, siamo all'appuntamento dedicato alla Lega Pro e alla seconda divisione, naturalmente prevalentemente all'Entella che nell'ultima giornata, la tredicesima di questo campionato, è andata a cogliere un importante successo, 2-0, un successo che va al di là anche del risultato numerico perché l'Entella ha dominato dal primo novantesimo la partita contro la Valenzana, l'Entella che ora si presta a una doppia trasferta in questa settimana si inizia domani con il turno infrasettimanale che porterà la squadra di Prina a San Bonifacio contro la San Bonifaceso, una squadra che in casa ha sempre ottenuto degli ottimi risultati, quindi la squadra tornerà a Chiavari e domenica sarà la volta di San Marino, un'altra trasferta lunga e un'altra trasferta insidiosa dalla quale naturalmente come sempre l'imperativo soprattutto in trasferta ultimamente cercare di prendere punti visto che le prestazioni sono sempre state all'altezza, è sempre mancato quel pizzico a volte anche di fortuna o comunque di determinazione in più per cercare di portare a casa punti importanti, per migliorare una classifica che comunque è già buona e che soprattutto dopo la vittoria di domenica ha permesso a Lentella di agganciare un paio di squadre davanti e andremo poi a vederlo nel dettaglio. Partiamo subito col dettaglio dei risultati partendo naturalmente dalla vittoria in trasferta della Propatria sul Bellaria, un campo difficile quello Cesenate dove la Propatria è andata a cogliere un importante successo, Propatria che continua a essere bersagliata da quelle che sono le penalizzazioni e ricordiamo i 13 punti in totale sottratti alla formazione Bustocca fino a questo momento e la squadra comunque non ne vuole sapere di mollare come avevamo sentito peraltro anche per voce del suo allenatore quando venne a Chiavri a cogliere un importante pareggio. Ancora la vittoria del Borgo Bugiano contro la Giacomense 2-0 per i Toscani, il Casale che vince la partita con Savona, una partita tirata 1-0 ma una gara nella quale il Savona ha giocato sicuramente alla pari e probabilmente avrebbe meritato anche qualcosina di più, bravo il Casale a capitalizzare appunto il gol nel primo tempo di Iannini. Infine ancora la vittoria del Rimini sul Mantua in trasferta, Mantua che torna a perdere fra le mura amiche e Rimini che continua invece in quello che è un momento assolutamente positivo di condizione della squadra romagnola. Ancora Renate che nel finale proprio al novantesimo ha ragione del Cuneo 1-0, la sconfitta per la squadra di Ezio Rossi che arriva appunto all'ultimo minuto in casa dei Lombardi che anche loro sono ormai in ripresa costante e stanno anche loro risalendo posizioni di classifica importanti. San Bonifacese e Sant'Ercangelo 2-0, quello che dicevo poc'anzi ovvero la regolarità della formazione veronese sul proprio terreno ha lasciato pochissimi punti in casa e quindi c'è da stare molto attenti mercoledì quando ci sarà appunto l'incontro con Lentella. Ancora San Marino-Montichiari 4-3, festival dei gol all'ottantesimo vinceva il Montichiari per due reti a uno, San Marino ha ribaltato 3-2 nel breve avvolgere di due minuti, dopodiché c'è stato ancora un finale scoppiettante con il 4-2 del San Marino e infine il 4-3 di Dimash che però poi non è riuscito nell'impresa di pareggiare appunto questo incontro dalle molte reti. Treviso-Lecco 0-0, ancora una mezza battuta d'arresto per l'ex capolista che viene appunto ancora avanzata dal Casale che continua a guadagnare punti in questa classifica nei confronti dei trevigiani. Ancora la vittoria dell'Alessandria sul Poggi Bonsi, una tripletta di Degano che dà la formazione grigia, un'altra vittoria importante che fa morale in attesa appunto che Sonzoni possa sistemare al meglio questa squadra che ricordiamo era partita con ben altre ambizioni. Andiamo a scorrere dunque la classifica con il Casale che è sempre al comando con 29 punti inseguito dal Treviso e dal Rimini che appaia ai trevigiani a quota 26, a 23 abbiamo il Cuneo fermato come abbiamo detto da Renate e ancora a 19 una coppia formata da Sant'Arcangelo e Giacomense, quindi Lentella che ha raggiunto Poggi Bonsi e Montichiari entrambe sconfitte. Ancora San Marino a 17, Renate e San Bonifacesi a 16, Borgo Bugiano e Bellari a 15, Savona e Mantova a 14, l'Alessandria a 13, la Valenziana a 10, l'Ecco a 8 punti e la Propatria con quattro lunghezze e chiudere questa classifica ricordo sempre i 13 punti di penalità della Propatria che porterebbero la squadra a 17 esattamente a ridosso di quella che è Lentella. Andiamo a vedere dunque com'è andata questa partita, abbiamo parlato di gara assolutamente dominata dall'Entella, ha un senso unico, Entella che è stata costantemente in avanti nel primo tempo però con giudizio, senza mai esporsi ad alcun pericolo e con la giusta pazienza per poi trovare il gol che è arrivato al 37esimo minuto del primo tempo grazie ancora una volta a Daniele Rosso. Abbiamo detto in fase di presentazioni come questo tipo di partite spesso vengono sbloccate da calci piazzati o comunque dalle famose palle inattive, è stato così anche domenica, Staiti è andato come sempre a battere gli angoli molto pericolosamente e Daniele Rosso appunto ha anticipato tutti sul primo palo e grazie anche ai movimenti dei compagni in aria è riuscito a incornare di testa e a mettere alle spalle del pur bravo portiere Serena, portiere che è stato assolutamente protagonista, lo vedrete poi nelle immagini di molti interventi che hanno negato a Lentella la possibilità di allargare il suo risultato mentre il gol del raddoppio è arrivato nel secondo tempo all'inizio della ripresa per opera di Staiti. Una bellissima azione tutta di prima, partita dei piedi di Lazzaro che ha tagliato il campo per tutta la sua larghezza servendo Rosso dalla parte opposta, il tocco di piatto al volo di Rosso per Staiti che al volo ha calciato in porta trovando prima l'opposizione del portiere Serena e quindi poi il tapin vincente con il portiere a terra per mettere alle spalle la palla del 2-0. Davvero un gran bel gol che ha strappato applausi al comunale e che avremo modo naturalmente di rivedere. Da lì in poi Lentella ha cercato di allargare il risultato, Miss Aprile naturalmente ha fatto ricorso anche un pochino al turnover visto che poi abbiamo detto ci sono questi due incontri ravvicinati nel giro di quattro giorni, però la squadra ha risposto al meglio, Lenzoni ha avuto in più di un'occasione la possibilità di allargare ulteriormente il risultato, non ci è riuscito. Lo stesso vale per Lazzaro che spesso è stato trovato al di là della linea difensiva della Valenzana, ma resta comunque la bella vittoria come poi sentiremo anche dalla voce del tecnico biellese. Quindi andiamo a vedere dunque gli highlights di questa partita e a seguire l'intervista a fine gara con Luca Prina. la seconda divisione dei Capron, tredicesima giornata, incontro Lentella Valenzana, formazione delle squadre Valenzana, Serena, Alegrini e Polino. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buona. 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 Grazie a tutti.